Salve, mi chiamo Sofia, sono una dermatologa da diversi anni e in questo video vi dirò se Onixan è valido e se funziona davvero. Rimanete quindi fino alla fine di questo video e vi dirò tutto quello che c'è da sapere su questa crema che è il modo più semplice per combattere funghi, prurito e screpolature. Onixan è una formula naturale al 100% studiata per prevenire la diffusione delle infezioni fungine. È un rimedio semplice per combattere il piede d'atleta, il prurito e le screpolature. Si libera completamente dalle micosi dopo il primo ciclo di utilizzo. In caso di infiammazione delle unghie, crepe sui talloni ed esquamazione della pelle dei piedi, odore sgradevole e leggermente acido, deformazione dell'unghia e della sua inserzione. Arrossamento e prurito nella zona del piede, è necessario rivolgersi a un medico per evitare una malattia più pericolosa. Il fungo rende le unghie gialle o marroni, fragili antiestetiche, e diventa un terreno fertile per i batteri. Il modo migliore per prevenire o fermare queste infezioni fungine è prendersi cura delle unghie e della pelle. Sulla base di queste informazioni, consiglio Onixan ai miei pazienti. È composto da tutti i nutrienti essenziali per la salute delle unghie. Questa formula è diversa da qualsiasi altra formula antimicotica provata in precedenza. Agisce sui funghi presenti sulle unghie eliminando ogni segno di vita fungina e impedendo loro di riprodursi. Noterete subito dei miglioramenti. Perché le unghie dei piedi avranno un aspetto più luminoso. La crema cura il piede d'atleta e il fungo delle unghie. Elimina anche il prurito e lo sfaldamento. Guarisce i talloni screpolati e dentro le prime settimane dovreste notare la crescita di nuove unghie sane e rosa in sostituzione delle aree danneggiate. Ma posso dirvi che il cambiamento più grande riguarderà la vostra fiducia in voi stesse. Perché finalmente vi sarete liberate del fungo che vi ha infastidito per tanto tempo. Migliaia di clienti in tutto il mondo hanno testato e approvato Onixan. Si dicono impressionati dagli effetti positivi di questo prodotto. Ma fate molta attenzione. Solo l'Onixan originale può fornire tutti questi benefici. La grande richiesta di questo prodotto ha portato alla comparsa di molte contraffazioni. Esiste un solo luogo ufficiale in cui Onixan viene venduto, ovvero il sito ufficiale. Fate quindi attenzione a dove lo acquistate. I prodotti contraffatti, oltre a non funzionare e a farvi perdere denaro, possono anche mettere a rischio la vostra salute. Ecco perché, per aiutarvi, ho inserito nella descrizione di questo video il link al sito ufficiale con uno sconto. Basta cliccare sul link per essere reindirizzati al sito ufficiale del produttore e poter effettuare l'ordine. In questo modo, avrete la certezza di ricevere il prodotto originale. Tutto ciò che dovete fare è compilare il modulo con il vostro nome e il numero di telefono corretto e attendere la chiamata di un rappresentante che deciderà con voi la quantità da ordinare. Se non rispondete alla chiamata, l'ordine non andrà a buon fine e rimarrete senza il prodotto. Quindi, quando il rappresentante chiama, rispondete. Il prodotto arriverà a casa vostra in pochi giorni e pagherete solo quando lo riceverete. Onyxan ha una garanzia di 365 giorni. Se per qualsiasi motivo non vi piacciono i risultati, se il prodotto non funziona per voi, potete chiedere il rimborso senza alcun rischio. Tuttavia, la domanda di questo integratore è aumentata negli ultimi giorni. I clienti stanno effettuando nuovi ordini a ritmo serrato dopo aver visto una trasformazione con Onyxan nelle prime settimane. Si sta diffondendo la voce che finalmente esiste un modo per ridurre al minimo gli effetti negativi dell'ipertensione e vivere una vita piena. Dovrete quindi agire in fretta per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano. Vi ringrazio per l'attenzione e spero davvero che questo video vi sia stato utile. Vi auguro un ottimo trattamento e che possiate ottenere risultati straordinari con Onyxan, proprio come molti pazienti che utilizzano questo prodotto. Salute e alla prossima!